Questa è il Cannondale Motera LT Neo 2. Questo non è il top di gamma, è il secondo livello. Vieni con un telai in carbon, anteriore, alluminio posteriore. I roti mullets, significa 29 anteriore e 27 e mezza posteriore. C'è un'escursione di 170 mm anteriore e 160 mm posteriore. Questi sono le basi di questa bici elettrica. Il resto delle specifiche sono molto interessanti. Abbiamo qui 12 macce con il Shimano XT posteriore con un cambio SLX. Abbiamo freni, qui Code R. Questi freni e Code R per me sono ottimi freni, specialmente quando sono settato bene. Questo viene montato con il sistema Bosch Performance CX con una 250 watt, 85 newton metri di coppia. Con il Smart System, con un batteria di 750 watt. Questo dà un'autonomia di più o meno di 3-4 ore di pedalata. Anche utilizzare tutte queste cariche in una uscita è difficile. Vieni con il comando Bosch Smart, significa anche il display Kiox. Lì puoi anche utilizzare il sistema senza display attaccato. Il Smart System ha la possibilità di anche modificare l'erogazione del motore, anche le diverse livelli di potenza, assistenza, anche velocità di risposta del motore. Ammortizzatore con la molla, che dà una risposta molto sensibile. Si senti che questa bici rimane attaccata alla terra. Anteriore abbiamo un RockShox ZEB Select, che non è il top di gamma, ma ha una bella forcella che funziona molto bene. Registrale geolico Download di Cannondale. Sono molto contento con il testamento di questo prodotto. Vieni a 7500 euro. Per questo livello di specifiche non è male. Come va sul sentiero? Questa è una bici elettrica che per me è stato sempre un benchmark. Sempre una di quelle bici elettriche che mi piace e che voglio pedalare e godere tanto tempo su questo e mezzo. Non è cambiata questa bellezza delle vecchie modelli. Infatti questo modello nuovo con il mullet è diventato anche più divertente. Ho visto con il 27 e mezzo posteriore hai più manubrabilità nei sentieri, anche specialmente quelli stretti, con i curvi stretti tra diversi alberi. È una bici elettrica che soprattutto è fatta per enduro o trail. Con questa escursione di 170 mm si può fare anche enduro anche su sentieri abbastanza sgassate e questa è una bici che risponde bene, rimane stabile, ha un'ottima geometria con un angolo di sterzo di 64,9 gradi che dà la possibilità di mantenere l'equilibrio nelle curve, anche pezzi molto tecnici. Reach abbastanza lungo, tenere il baricentro basso. È un bici che si sente proprio un mezzo robusto. Ogni mezzo che provo di Cannondale è sempre stato un mezzo interessante per me. Ovviamente il motore Bosch con 250 watt e tanti nitrometri è fantastico, è molto fluido. Questa ha la pedivella di 150 mm che tenere la possibilità di battare le pedali su terra molto più basso. In salita di queste pici è molto facile da pedalare, è molto risposto, rimane attaccato specialmente con la sospensione posteriore di molla. La caro posteriore è abbastanza lunga per creare un equilibrio perfetto su salita. L'unica cosa che non ho capito benissimo della bici elettrica con il nuovo sistema Bosch, ancora stanno usando wheel magnet. Questo non capisco esattamente ma va bene comunque non fa fastidio a me. Ok sulla sospensione con la molla, onestamente questo è un punto di forza di queste bici elettriche perché vieni già montato con la molla è una una significativa intenzione di queste bici. Questo è puntare su discese robusti, su un rider alto performante anche se queste bici va bene, è facile da pedalare, è facile da capire anche per il rider più base di livello. Hai la possibilità di fare giri facile, il rider è il punto di limitazione, non è il mezzo. Ovviamente devi avere un molla a posto per il tuo peso, questo è di 450 libri che per me va bene. A 7500 euro, con queste qualità di componentistiche che non sono esagerate ma non sono base, in più con il nuovo sistema Bosch con le batterie di 750 mila watt, è rimasto sorpreso. Anche se i prezzi sono leggermente più alzati in confronto a modelli di anni precedenti, infatti è molto competitivo confronto e concorrenza. Hanno creato un ottimo mezzo, puoi godere tutti, in tanti diversi modi, su tanti diversi stili di sentieri, un prezzo non economico ma abbastanza competitivo, confronto la concorrenza per il livello di specifiche presente su bici. Ultima cosa da dire, è una delle mie bici preferite, è sempre stato, ancora rimasto lì, è migliorato con il sistema Mallet che è diventato più veloce nelle curve e più facile da pedalare, specialmente sui sentieri stretti. Grazie per guardare questo video, non dimenticare di fare un bel like e scrivere un commento e ci vediamo sul nostro prossimo video test. Grazie e ciao.